E' stata fissata per il prossimo 5 di giugno la conferenza dei servizi necessaria l'approvazione complessiva e finale del progetto dell'autostrada Ragusa-Catania. Ad annunciarlo sono stati i deputati regionali di Pasquale Ragusa che hanno partecipato a Catania alla riunione tecnica preparatoria in vista dell'appuntamento di giugno. All'incontro erano presenti anche l'assessore alle infrastrutture della regione siciliana Giovanni Pistorio e i rappresentanti degli assessorati regionali all'ambiente e beni culturali, i vertici della società autostrada Ragusa-Catania. Durante la riunione, dichiarano i due parlamentari, abbiamo avuto modo di vedere su carta come verrà realizzato il tracciato dell'autostrada e come si snoderà per i territori. Ogni ente ha avuto l'opportunità di esporre le proprie valutazioni e osservazioni in vista della conferenza dei servizi. La percezione è quella di un lavoro complessivo che è arrivato ormai a pochi passi da traguardo. La data del 5 giugno, concludono di Pasquale Ragusa, sarà un appuntamento decisivo per il futuro della provincia eblea perché dall'esito di quel vertice si potrà andare finalmente all'apertura dei cantieri.